ladies and gentlemen bonjour una piccola visione dell'interno zona pilota e passeggero allora partiamo da qua qui si mettono le chiavi freccia e abbagliante differenziale che ancora blocco del differenziale che ancora non l'ho usato olio freni qui ho messo un orologino un simpaticissimo per guardare la temperatura del frigo mazza ok una lampada va bene anche quella che c'è qua questa va molto bene molto fa molta luce però volendo no questa qua è pratica adesso è giorno quindi non si capisce qui tappetini multiuso tappetini antiscivolo tappetino per mettere il telefono cassettino pensavo fosse un portaradio invece un cassettino frecce di come si ne è tanto devo tirarlo un po registrarla misuratore della della luce abbassare abbassarla calda sedili ottimi marce una due tre quattro cinque e retromarcia ridotte le ridotte quando l'ho presa erano molto 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 dure poi lo sistemate l'uso delle ridotte è un po non è particolare quanto invece un po come dire rozzo come lo richiede appunto il watts e abbiamo le ridotte corte e le ridotte lunghe questa addirittura si può mettere quando si è ancora in movimento quando si è in movimento puoi inserire le ridotte lunghe presa accendi sigheri che ne ho aggiunta una con tre uscite più usb carica usb solare una radiolina prossimamente dovrò mettere una radio un po più seria e questo questo per riscaldamento di dietro molto forte va molto bene questo per quello davanti questi qua il faro di dietro della nebbia e questo per misurare il come si chiama il le due tank ma io lo tengo sempre lì come da consiglio della watts e luci conta chilometri vediamo quanti chilometri ci bocchettone dell'aria bocchettone dell'aria calda e fredda e riscaldamento questo lo tengo sempre acceso per il momento motore cassettino laggiù in fondo e guano messo un altro un po più come dire un po più per mettere tutte le altre cosettine qua c'era prima un dove sono i due buchini c'era lo specchietto ma era troppo spostato e quindi ne ho messo uno piccolino per guardare di dietro e poi questo special a ventosa che si attacca nel vetro e così si può vedere molto meglio quell'altro era anche un po più piccolo e via questo è il nostro bel parasole che tirato giù il parasole para anche la vista perché non si vede più nulla per il resto questo è il lavoro interno del watts un po rozzo ma d'altro canto è un guazzo no it's ok le tendine mitiche il deflettore magico e il volante il clacson il sedile del passeggero il riscaldamento di dietro è posizionato qua dietro il sedile del passeggero e qua il vano posteriore con il tavolino qui o prima o dopo devo sistemare qualche cosa devo organizzare altre cose vediamo un po se c'è qualche cos'altro che mi sembra che ci sia tutto a manovella bonjour